alimento veterinario zeopet ciao sono il dottor max della farmamax che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata agli alimenti veterinari ti leggerò i foglietti illustrativi degli alimenti veterinari più utilizzati prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace ai video che ti interessano e commentare con le tue esperienze personali in base ai farmaci integratori alimentari parafarmaci farmaci veterinari alimenti veterinari o principi attivi da te assunti in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie ai suggerimenti condivisi in questo video esaminiamo l'alimento veterinario zeopet linea cane sano ecobio progetti srl ultimo aggiornamento 10 maggio 2013 informazioni commerciali confezioni formulazione indicazioni posologia informazioni commerciali titolare ecobio progetti srl concessionario ecobio progetti srl confezioni zeopet linea cane sano a spolvere micronizzata per cani 14 bustine 5g cad zeopet linea cane sano a spolvere micronizzata per cani 400 g zeopet linea cane sano a spolvere micronizzata per cani 60 bustine 5g cad formulazione zeolite clinoptilulite attivata indicazioni per la salute contrasta l'invecchiamento contrasta la diarrea migliora l'equilibrio psicofisico rinforza il sistema immunitario migliora la consistenza delle feci favorisce la funzionalità epatica per il benessere elimina i cattivi odori combatte i parassiti dona pulizia e lucentezza contro le dermatiti contro le micosi effetto cicatrizzante osologia per animali fino a 10 kg 1 bustina barra misurino una volta al giorno nel pasto per animali oltre 10 kg 2 bustine barra misurini una volta al giorno nel pasto nel caso di diarrea si possono raddoppiare le dosi fonte codi fa l'informatore farmaceutico per avere accesso alla versione più aggiornata si consiglia l'accesso al sito web della codi fa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero che la farma max ti sia stata utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo alimento veterinario esaminato grazie a tutti